Oh ragazzole e ragazzole, buon pomeriggio, che bello, uno dei video che vi devo pubblicare sono ancora in canottiera e in questo c'è già addosso il maglione, non si capisce una mazza? Perfetto, però fa niente e tra l'altro benvenuti al primo dei video, cioè per cui dovrebbero essere video di Halloween poi prendetela con le pinze questa cosa, chiaramente non sarà mai così ma questo è un as you like it in realtà, dedicato da un'attrice che ogni tanto io ho questi flash di solito me li fate venire voi flash, del tipo come è successo con Marion e qualcuno di voi mi scrive e mi dice, Penny ma hai mai parlato di... e io certo che sì, poi mi rendo conto che no, non ho mai assolutamente parlato, non in maniera specifica per cui questo as you like it è dedicato ad un'attrice di cui ho letto tanto, devo ancora leggere tanto perché ha scritto tantissimo, una delle attrici inglesi più prolifiche che ci siano, pazzesca che è Daphne du Maurier, che è un'attrice che sicuramente conoscete almeno per un paio di romanzi dovete almeno averla sentita nominare per forza perché dai è tipo famosissima e se non la conoscete, questa è l'occasione per conoscere, perché in as you like it questo format, si chiamano format, cioè una presentazione generale dell'autore o dell'autrice e parliamo anche un po' dei suoi libri, del suo stile, di che scrive, cosa non scrive, che ci piace, cosa non ci piace di lei perché qualcosa dai, un pochettino che non ci piace ci sta e per cui ecco, quando le cianci ci chiamano le bande e iniziamo a parlare di Daphne du Maurier un po' seriamente, giuro, giuro che ne parliamo seriamente Allora, Daphne du Maurier, attrice pazzesca, nasce il 13 di maggio del 1907 a Londra è la figlia di mezzo di Sir Gerald du Maurier e di Muriel du Maurier che si è preso il cognome del marito lui è manager teatrale e attore, lei è anche attrice ma in realtà tutta la famiglia di Daphne, oltre ad essere benestante che le ha permesso di studiare, girare il mondo, studiare in posti pazzeschi è proprio tutta nel mondo artistico, una cosa pazzesca perché il nonno è autore e cartonista, sua sorella è scrittrice pure lei e la sorella più piccola è pittrice in più è imparentata coi fratelli Davis che forse alcuni di voi diranno chi sono questi sono praticamente quei fratelli che sono stati d'ispirazione a James Berry per creare i fratelli Darling di Peter Pan una roba pazzesca Daphne da ragazza frequenta le scuole d'arte a Londra, poi a Parigi viaggia tantissimo, conosce un botto di persone famose per quanto vi ho detto, tanto lei è un po' tutta nel mondo artistico in più, come dire, c'ha il doblone quando a Parigi, queste sono tutte illazioni ho letto un po' di articoli, ho spulciato un po' di articoli c'è chi dice che è così, c'è chi dice no ma che sta a dire ma non esiste la verità sta sempre nel mezzo o sono cose che sono uscite adesso comunque se ha rifatto si dice che abbiamo avuto dei rapporti sia con la preside della scuola sia con questa Gertrude Lawrence Daphne appunto addirittura Gertrude Lawrence per cui Daphne si disse che ha preso una sbandata pazzesca ad un certo punto invece la odiò tantissimo perché pare che col padre di Daphne che già aveva donna in tutti i porti tipo i marinai il mio gatto si è emboschato in un angolo non ho capito cosa è successo pare che Gertrude ad un certo punto sia andata a inzifugliare pure col padre di Daphne quindi Daphne, cioè, giustamente si è un attimino inalberata e per cui questa relazione è finita malissimo tra l'altro una piccola curiosità in un'edizione di Tender is the Night Tender alla notte di Francis Fitzgerald la ragazza in copertina nella fotografia è proprio Daphne du Maurier una roba pazzesca in realtà questo tarlo della scrittura Daphne ce l'ha da tanti anni cioè se lo porta dietro per tanti anni un po' appunto per l'amore che ha nei confronti dell'arte proprio per il fatto che comunque era stata iper super stimolata immagino in questa famiglia che aveva un po' perché lei non vede l'ora di rendersi indipendente se non vuole andare di casa non vuole più di stare in casa c'è un po' di maretta e per anni si è parlato e anche qui ho letto un po' in giro che ha avuto un rapporto un po' contrastato con il padre per cui vabbè c'è stato di fatto che attorno ai vent'anni Daphne non vuole più stare a casa decide che vuole andarsene il problema è che non ha soldi cioè lei vuole rendersi indipendente per andarsene lei personalmente non ne ha di soldi per cui decide di pubblicare qualche racconto sfruttando la fama del suo nome perché comunque i Dumourie come famiglia erano molto conosciuti e decide allora di iniziare a pubblicare si fa aiutare dallo zio e appunto è grazie allo zio che pubblica i suoi primi racconti e poi nel 1931 il suo primo romanzo che è Spirito d'amore è proprio grazie a questo romanzo che lei conosce quello che diventerà suo marito che è Sir Frederick Arthur Mountain Browning che vuole leggenda ma in realtà penso sia una cosa abbastanza confermata perché è scritto praticamente ovunque che lesse questo romanzo si innamorò pazzescamente dell'autrice del romanzo la storia è deciso che voleva conoscerla a tutti i costi lui era capitano di Marina comunque era ufficiale di Marina salpò per Londra per andare a conoscere questa Daphne perché lui voleva conoscere a tutti i costi e si sposano poco dopo il loro incontro nel 1932 è più o meno in questo periodo che Daphne du Maurier viene a conoscenza e come dire si scontra con questa magione pazzesca che si chiama Mina Billi Mina Billi non so come si pronunci che è una magione abbandonata che la chiamava Sé e sarà fonte di ispirazione per una celebra un romanzo famosissimo però nel futuro diventerà un'ispirazione lei tra l'altro questa Mina Billi non riesce a togliersi dalla testa lei insi lei pensa un giorno sarà mia un giorno io andrò a vivere in questo posto nel 1932 pubblica il suo secondo romanzo che è Non sarò più giovane che è un romanzo considerato abbastanza fricicoriccio per essere l'epoca ma in realtà molti dei suoi romanzi hanno delle tematiche che per essere l'epoca in cui sono scritti sono decisamente avanti nel 1933 pubblica un altro romanzo ancora che si chiama Il progresso di Julius io quelli che riesco ve li sto dicendo in italiano perché esistono anche in italiano poi comunque non vi preoccupate che qua sotto vi metto tutti i titoli certo non sono semplicissimi da trovare io alcuni li ho perché li ho trovati sui mercatini guardate se li trovassi sarei molto felice di farmi vedere dopo magari me li recupero alcuni non li ho letti per cui ecco nel senso semplicemente per quello la sto facendo molto rapida su questo nel 1934 muore il padre di lei Geralt e lei scrive una biografia che ha un enorme successo tenete conto che veramente i Dumourie erano una famiglia molto importante una famiglia molto conosciuta a Londra il teatro frequentavano comunque l'ambiente artistico e per cui infatti lei ha scritto addirittura la biografia del padre e questa biografia vende tantissimo nel 1936 è la taverna alla Giamaica che ha come ispirazione l'isola del tesoro di Stevenson un po' diciamo che le tematiche con questi personaggi un po' ambigui pirateschi ambientati in questa taverna un po' scura ricorda un po' il romanzo di Stevenson è ambientato in Cornovaglia la taverna della Giamaica un luogo da lei amatissimo lei non è originaria della Cornovaglia ma sarà il luogo dove ambienterà la maggior parte dei suoi romanzi e queste scogliere imperve della Cornovaglia infatti le saranno di ispirazione poi nel futuro lo sappiamo per che cosa adesso ci dobbiamo arrivare perché sarà da qui a poco che capite proprio quello succederà da qui a poco tanto taverna alla Giamaica verrà azionato per un film e effettivamente diventerà un film anche se non molto amato un film tra l'altro diretto da Alfred Hitchcock come poi anche altri due progetti tratti uno da un racconto uno da un romanzo di Daphne Dumourie finché però è stato disconosciuto praticamente da chiunque ci ha lavorato tranne che dagli attori perché purtroppo c'è stata una forte presenza di scelte non dettate appunto dal regista che era Hitchcock ma dall'attore protagonista dalla produzione che sarà messa in mezzo sta rifatto che ad un certo punto sì il film è stato fatto ma nessuno dice sì vabbè è fatto ma io guarda non c'entro proprio niente lasciami perdere io non voglio neanche saperne morale nel 1936 dopo appunto l'uscita di questo romanzo successivamente poco dopo l'uscita del film per alcuni mesi Daphne si trasferisce ad Alessandro di Egitto in realtà per pochissimo tempo veramente perché non ama per niente quei luoghi e decide poco dopo cioè lei va là per seguire il marito ma decide poco dopo di tornarsene a casa perché non ce la fa nel frattempo dà la luce alla sua secondogenita diciamo che il rapporto di Daphne con i suoi figli non era proprio cioè era molto come dire secondo me come poteva essere la metratura dell'epoca nelle famiglie molto ricche del tipo io faccio un po' infatti i miei tanto ci pensano alle tate e i figli e se li curano loro pubblica e nel frattempo anche la biografia di famiglia mentre ad Alessandro di Egitto però le viene uno sghiribizzo le viene uno sghiribizzo perché ci sono come dire c'è un fattaccio si può dire un fattaccio sì che le ispira quello che poi diventerà il suo romanzo più famoso un fattaccio che in realtà è successo anni prima però lei probabilmente ci ricama un po' sopra e nel 1938 il 1938 è l'anno della svolta perché esce quello che è probabilmente il romanzo più famoso di Lafne du Maurier che è Rebecca da noi si intitola La prima moglie cioè adesso se lo andate a cercare si chiama Rebecca ma se cercate qualche vecchia edizione o se lo vedete sui mercatini La prima moglie è Rebecca non ho capito perché in Italia si chiamano La prima moglie probabilmente facendo ruota adesso perché non so se in Italia è uscito prima o dopo rispetto a quello che è il film di Hitchcock perché più o meno è dello stesso periodo il film per cui non vorrei che essendo uscito il film che si chiamava La prima moglie per far capire quello che è la trama del romanzo vabbè sta di fatto che questo succeda è un romanzo dalle atmosfere gotiche che spesso e volentieri viene accostato da altri romanzi come per esempio Jane Eyre anche per la faccenda qua della prima moglie contiene uno degli incipit penso più famori della storia della letteratura mondiale volevo dire inglese ma secondo me è mondiale che invito voi a dirlo prima che ve lo dica io L'altra notte ho sognato di ritornare a Manderley romanzo narrato dalla seconda moglie del protagonista che in un lunghissimo flashback ricorda quello che è stato il momento dell'incontro come appunto Maxine de Winter il protagonista maschile il marito appunto della nostra protagonista che io chiamo protagonista perché non ha un nome è tipo diabolic si chiama Signora de Winter appunto forse proprio per rimarcare ancora di più la presenza di questo personaggio che in realtà non c'è mai noi non la conosciamo mai personalmente che è Rebecca che è la prima moglie di Maxine de Winter il cui fantasma alleggia su tutto il romanzo e soprattutto in questa magione che è la casa di famiglia dei de Winter che è Manderley Manderley appunto si ispira a questa magione che Daphne de Moria va veramente incrociata a questa a mena billy per cui lei è una fissazione pazzesca è ambientato in cornovaglia per cui queste scoglie della cornovaglia che lei amava moltissimo zona che amava tantissimo lei ha confluito tutte queste cose insieme per creare questo romanzo voi direte ma scusa e allora Rebecca anche Rebecca in realtà ha qualcosa di vero di reale perché mentre era Alessandra d'Egitto ritrova delle vecchie lettere che la fidanzata la prima fidanzata del marito le aveva scritto che si chiamava non mi ricordo come di nome ma Riccardo di cognome lei si fermava con questa R lei questa R è rimasta talmente impressa che appunto chiamerà poi la protagonista del suo romanzo Rebecca esattamente appunto come questa prima fidanzata del marito con cui ha avuto un rapporto travagliato perché si dovevano sposare poi alla fine è successo un casino non si sono sposati sa di fatto che probabilmente anche lei ha sentito un po' questo questo fantasma della prima fidanzata del marito che è stato un grande amore per lui e esattamente lei va a ricalcare questa storia reale nel suo romanzo appunto più celebre nel 1940 esce il film tratto da questo romanzo sempre diretto da Alfred Hitch con uno straordinario Sir Lawrence Oliver se non l'avete mai visto io ve lo consiglio è un film che mia nonna amava tantissimo forse perché amava tantissimo Lawrence Oliver può essere anche quello vince l'Oscar come miglior film per cui per dirvi è veramente un film che ha avuto un'importanza incredibile e un romanzo che diciamo ha poi definito l'autrice Daphne Morier peccato che su questo romanzo legge c'è un'accusa abbastanza pesante che è quella di plagio che non si sa se effettivamente è vera o come dire è stata una cosa un po' ingigantita poi dopo ovviamente quando è saltato fuori il fatto che esiste una clausola da contratto proprio cinematografico per cui è stata pagata una cifra ad un altro autore che diceva scusa ma questa storia in realtà l'avevo scritta io praticamente identica autore semi sconosciuto sudamericano se non mi ricordo una roba del genere morale gli fu pagata una cifra per di tassi non di niente e questo non fece mai causa perché dice chi me lo fa fare di mettermi contro uno studio hollywoodiano contro della gente così potente non ce la potrà mai fare di conseguenza ha mollato il tiro il problema è che non è l'unico lavoro che è per cui Daphne de Morier è stata accusata di plagio ne esiste anche un altro che è probabilmente il secondo lavoro il secondo scritto più celebre di questa autrice che è gli uccelli da cui che è un racconto breve in realtà non è un romanzo come Rebecca fa parte di una raccolta di racconti da cui Hitchcock trarrà un altro film sodalizio incredibile per cui Daphne de Morier e Alfred Hitchcock eppure questo tra l'altro questo gli uccelli il racconto la cruza di plagio per questo racconto le arrivò non da autore semi sconosciuto del sudamerica che dici ma io guarda vivo veramente in mezzo al fango io come te faccio causa no questa nel 1953 si becca un'accusa di plagio da un parente cioè capito senso a questo punto dici boh ma non lo so che ci avrà ragione non si sa come dicevo Menderly è ispirata a questa magione che lei aveva incontrato Daphne in gioventù che nel 1943 diventerà sua tra virgolette vi dico perché in realtà non proprio sua 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 perché non l'ha mai potuta comprare perché i padroni di casa non li hanno mai voluta vendere per cui l'affitta il problema è che non è che si limita ad affittare questa questa magione lei la ristruttura completamente cioè ci fa dentro dei lavori pazzeschi ci spende una marea di soldi ovviamente tutti attorno le dicono Daphne scusa tesoro ma forse non è casa tua cosa fai una cosa del genere morare lei a Menabilli rimane per 25 anni perché ad un certo punto i padroni di casa decino di andare a vivere loro per cui la sprattano e ciao a Dio e lei vabbè chiaramente non penso che questa cosa se la sia vissuta benissimo comunque dopo ha comprato casa poco vicino in cornovaglia sempre appunto in queste zone come dicevo ha amato tantissimo un'altra cosa curiosa nei confronti di Rebecca è che l'autrice Daphne de Morier non ha mai compreso tantissimo il successo di questa storia di questo di questo suo Rebecca che è veramente molto probabilmente il romanzo più famoso al di là del film di Hitchcock che è un celeberto che ha vinto un Oscar poi sono state tratte comunque altre altre miniserie qualche anno fa la televisione inglese pochissimi anni fa l'ha fatto anche la Rai tra l'altro la miniserie in due puntate che fece la Rai con Alessio Boni e Cristiana Capotondi potete anche incomodamente vederla su Raiplay perché la trovate l'ho rivista di recente perché ero curiosa io la vidi anni e anni fa con mia nonna appunto grande fan di questo romanzo di quel film con Loresso Livio nessuna delle due fu convinta all'epoca anche adesso vi dirò così così tra poco per Netflix uscirà un film tratto appunto da sempre da questo romanzo con protagonisti Armie Hammer e Lily James vedremo come sarà questo ennesimo rifacimento se ci sarà qualcosa di nuovo se invece sarà sempre un po' la solita minestra riscaldata from Alfred Hitchcock ecco vi dico di quello della Rai secondo me Mariangela Menato che fa Mrs. Danvers cioè questa governante di casa che era l'ex governante di Rebecca legatissima alla sua prima padrona che sembra quasi di voler far rivivere Rebecca o in ogni caso non vuole che si tocchi le cose di Rebecca cioè Manderley per lei è Maxine De Winter e Rebecca per cui vede l'intrusione di questa ragazza di questa nuova moglie come un affronto personale cerca in tutte le maniere di distruggerla in una maniera molto subdola ed è questo secondo me straordinario cioè questo fine racconto psicologico e poi c'è questo rapporto che alcuni vedono un po' ambiguo tra la Danvers e Rebecca non da parte di Rebecca ma probabilmente da parte della Danvers che ricorda un po' magari questi amori di gioventù che può avere Daphne de Muriel che però non sono mai stati effettivamente confermati e che la famiglia ci tiene a non non a nascondere però dice ma che sta di non è vero perché si sa che non so forse pensano che qualcosa che rovini l'immagine anche se lei avesse avuto effettivamente queste esperienze omosessuali durante la gioventù io non capisco perché tu debba andare a dire no assolutamente no 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 una cosa del genere mancherebbe altro considerato che al di là di tutto era un'attrice avvantissimo e pare che lei non si definisse omosessuale ma bisessuale perché effettivamente si è sposata e non si è sposata perché doveva nascondere il fatto di essere omosessuale si è sposata perché era innamorata comunque del marito comunque nel 1941 esce Donna a Bordo che è un romanzo un po' particolare rispetto ai soliti Daphne de Muriel che contengono tutti gli elementi abbastanza da romanzo gotico questo invece ricorda più un romance e la cosa un po' particolare è che in Rebecca c'era appunto questo fantasma dell'ex finanzata del marito che aleggia questo invece romanzo racconta di questa donna che decide di scappare con un amante ed è una situazione che effettivamente pare che sia capitata veramente Daphne ad un certo punto ruppe praticamente qualsiasi rapporto col marito erano sposati formalmente ma poi in realtà stavano insieme un po' perché lui scappatella ovunque lei a quanto pare ne ebbe una veramente grosso si prese una trambata assurda il marito lo scoprì non è che fece la grande sceneggiata però gli disse qualcosa del tipo molla pianta perché non mi sembra assolutamente il caso e pare che lei raccontò questa scappatella appunto in questo romanzo nel 1951 è mia cugina Rachele che è un altro romanzo celeberrebo dell'autrice nel 1952 fecero un film con Olivia de Avilland che secondo me non c'entra assolutamente niente col personaggio la stessa Daphne du Moret non fu infatti contenta di questo casting anche perché il personaggio di Rachele è un personaggio che forse può ricordare un po' Rebecca un personaggio femminile molto ambiguo non è il classico personaggio femminile come dire totalmente positivo anzi questa Rachele Rachel in inglese da noi è uscito mia cugina Rachele è un personaggio ambiguo una fan fatale una donna che fino in fondo e forse fino proprio veramente all'ultima riga tu non capisci esattamente chi è fai fatica entrare nella sua testa ed è meraviglioso come lei nari di questo personaggio femminile incredibile pazzesco che tu non capisci mai se o sono tutti stupidi gli uomini che le girano attorno o se lei lei che è molto brava rigirarsi tutti quanti come un calzino ed è incredibile appunto questo fine racconto psicologico se vogliamo se vogliamo così vorrei puntualizzare un piccolo difetto secondo me che ha alcuni romanzi hanno alcuni romanzi di Daphne de Morier e io trovo che lei ogni tanto con i finali dei suoi romanzi faccia un po' troppo la svelta faccia un po' il drittone che tu sei lì questo è perché è un ricordo che ho fortissimo e di mia cugina Rachele mentre lo stavo leggendo cioè arrivata a non lo so dieci pagine dalla fine eravamo ancora in pieno climax e io tipo come posiamo mancheranno delle pagine ho comprato io un libro che è tagliato dai deve essere successo qualcosa in realtà finisce che tu rimani cioè finisce molto la svelta per cui tu non fai tempo a processare quello che è successo e ecco forse è questo l'unico forte grosso difetto perché in realtà crea delle storie con degli impianti perfetti che ti buttano direttamente nella storia nella testa dei personaggi è incredibile come tu riesca esattamente magari come il protagonista con cui tu ti identifichi che sia la giovane moglie di appunto Rebecca la prima moglie che sia il protagonista maschile di mia cugina Rachele a farti ingarbugliare anche tu per cui pure tu da esterno non riesci a essere obiettivo e dire forse c'è qualcosa che non va cioè esattamente come Rebecca che a un certo punto ti vengono i dubbi di quello che può essere successo alla prima moglie e inizi a sospettare di persone insospettabili uguale succede qui tu dici ma chi sarà realmente questa Rachele la strega la fan fatale o la donna innocente cioè è incredibile perché poi pensiamoci 1951 cioè sono romanzi scritti in un'epoca in cui tu magari non ti aspetti tutto questa capacità di o forse io non me l'aspetto non lo so però comunque sono romanzi veramente incredibili nel 1957 è Il capo espiatorio un altro romanzo che io vi consiglio di recuperare che mi è piaciuto veramente tantissimo anche questo secondo me patisce un attimino il problema del finale vi dirò di più e adesso secondo me qua mi becco la bassanata di quelle proprio stong qua del capo espiatorio ho amato tantissimo la miniserie che era uscita un po' di anni fa e con un po' secondo me sette otto anni fa una miniserie in un paio di puntate penso fosse sempre della BBC con protagonista Matthew Rhys nel caso mi metto tutto qua sotto ecco se trovo trailer quant'altro il capo espiatorio racconta una probabilmente penso forse sia il primo che racconta una cosa del genere cioè l'incontro occasionale tra questi due uomini che hanno due vite completamente diverse completamente all'opposto questi due uomini si assomigliano tantissimo e decidono di scambiarsi le vite e vivere per un tot per un tot le vita l'uno dell'altro con ovviamente tutta una serie di conseguenze del caso è un romanzo di cui ho amato tantissimo le premesse ho amato il centro mi ha lasciato un po' alla fine un po' così forse perché è tutto molto un crescendo e la fine tipo il souffle quando a partire troppo la svelta al forno che si affloscia di botto ecco invece secondo me il finale della miniserie era azzeccatissimo nel caso io vi consiglio di recuperarla nel 1965 muore il marito che come vi dicevo comunque a un certo punto praticamente ha tagliato qualsiasi rapporto addirittura pensate che il marito aveva una cotta incredibile lui lavorava anche a corte per la regina Elisabetta cioè vabbè una roba fuori di testa cioè nel senso il marito era un po' un po' un farfallone ad una certa nel 1969 viene nominata da in commander dell'impero britannico nel 1989 il 19 di aprile muore pubblica postumo un libro che io sto cercando da tantissimo tempo che vorrei leggere tantissimo cornovaglia magica che è una autobiografia ma un po' particolare praticamente racconta se stessa raccontando alcuni dei luoghi più amati appunto della cornovaglia che come vi dicevo è un luogo amatissimo e lei raccontando questi luoghi racconta appunto quella che è la sua vita è stata lì in cornovaglia che comunque vabbè io così spassionatamente essendoci stata qualche anno fa vi consiglio di andarci a fare un giro io ci tornerei anche perché sì l'ho vista ma alcuni posti non li ho visti e comunque li rivedrei anche se li ho già visti così ho fatto un giro di parole che non si è capita a chi consiglio Daphne du Maurier cioè perché dovete leggere secondo me Daphne du Maurier come abbiamo detto prima Daphne du Maurier contiene elementi gotici oscuri personaggi ambigui personaggi anche psicologicamente controversi come autrice però secondo me più che a autori dei romanzi gotici che per quanto riguarda il lato psicologico spesso e volentieri erano ancora molto grezzi poi andando avanti magari meno però i primissimi autori di romanzi gotici puntavano molto di più sull'atmosfera su questi luoghi comuni quello che invece fa Daphne du Maurier è ad avvicinarsi di più a un autore che io amo tantissimo che inizia per Will che finisce per Collins e secondo me è un autore che è molto vicino a Daphne soprattutto per quanto riguarda la costruzione di personaggi molto ambigui basti pensare per esempio alla protagonista femminile di Armadal che è appunto questa donna che ricorda forse anche un po' Milady dei tre moschettieri cioè questi personaggi che sono sempre lì un po' un po' che non sai mai bene sono buoni sono cattivi ad un certo punto sembrano cambiare però poi forse non sono cambiati ecco più o meno diciamo che Daphne du Maurier sia per quanto riguarda il fine racconto psicologico dei personaggi la costruzione dei personaggi femminili ma anche le ambientazioni che si ricordano le ambientazioni gotiche però non con quei classici castelli sulle scogliere con tutte quelle situazioni appunto del romanzo gotico diciamo che lo fa ma in maniera più elegante ecco diciamo una cosa del genere spesso e volentieri è stata accostata delle scrittrici romance non capisco esattamente perché forse perché in alcuni dei suoi romanzi effettivamente ci sono delle storie d'amore però non ci sono le classiche storie d'amore secondo me appunto come dicevo è più un Wilkie Collins nello stesso Wilkie Collins comunque si racconta di storie d'amore molto spesso quasi sempre comunque c'è la coppia di amanti che viene separata e che deve ricongiungersi o la coppia di amanti che non so di amore non corrisposto o che in qualche maniera ad un certo punto qualcuno mina il loro amore e Wilkie Collins come dicevo condivide l'amore per queste donne indipendenti sensuali no fragili ma hanno questa forza nascosta le atmosfere dark questi fantasmi che tornano dal passato queste trame talvolta un po' thriller poi addirittura e qui è uno schiaffo in faccia a quelli che la definiscono scrittrice romance infatti non è stata mai un'autrice molto amata dalla critica più dal pubblico che dalla critica la critica in realtà non l'ha mai premiata non ha vinto quasi premi durante la sua lunghissima carriera e molto prolifica carriera come dicevo perché oltre a questi libri che vi ho citato ce ne sono poi tanti altri ma ci sono anche tantissime raccolte di racconti e alcuni suoi racconti hanno come dire questa questa tematiche un po' dark un po' gotiche che ci sono nei libri che come vi dicevo però sono molto sottili molto eleganti vengono marcate molto di più nei racconti ci sono alcuni racconti che sono marcapamente horror basta pensare agli uccelli o quello che io ancora oggi me lo ricordo talmente bene che non lo so un po' mi terrorizza solo a pensarci che è non voltarti che secondo me è agghiacciante quello a un finale per esempio che è molto rapido ma è perfetto proprio perché ti lascia così sconvolto sulla fine e tu dici no ma scusa cosa è successo ed è spaventoso secondo me il finale di quella raccolta ma in quella raccolta che appunto si chiama proprio non voltarti ci sono tanti altri racconti che più o meno hanno più o meno lo stesso tono e sono spaventosi vi lasciano veramente col chiato sospeso e sono perfetti per questo periodo nel caso vogliate recuperarlo addirittura in alcuni romanzi ha anche sfiorato il fantasy o lo sci-fi come nella casa sull'estuario in cui addirittura si parla di viaggi nel tempo per quello vi dico avantissimo Daphne de Morier e incanararla soltanto in un genere dire scrive soltanto storie gotiche scrive thriller scrive romance non è esatto secondo me ha toccato più generi di fondo c'era sempre più o meno lo stesso interesse cioè quello magari per il mistero o per personaggi un po' ambigui e per cui questo sì chiaramente perché è un autore che cambia completamente genere o che è irriconoscibile in un romanzo a quell'altro forse è impossibile io non credo che ci sia un autore capace di una cosa del genere cioè per quanto un autore possa toccare generi diversi poi comunque ci sarà una cifra stilistica uguale da un romanzo con l'altro vi dicevo penso che abbia toccato tanti generi diversi però questo amore appunto per personaggi controversi per determinati tipi di atmosfere o comunque per il personaggio femminile si ripropone spesso nei suoi nei suoi libri nei suoi racconti io appassionatamente vi dico se non avete mai letto nulla di D'Arti Indomorie per quanto Rebecca sia un romanzo bellissimo non tra i miei preferiti che ha scritto ma molto bello poi ce ne sono anche di più difficili adesso non ve l'ho citato prima ma I Parassiti è anche molto bello I Parassiti fa molto ridere perché io la sua storia familiare per esempio non la conoscevo non più di tanto di D'Arti questo video ho detto perché Parassiti parla appunto di questa famiglia di artisti che polleggia diciamo durante questa giornata e saltano fuori tutte le magagne di questa famiglia e appunto ad un certo punto il marito di una di questi definisce loro Parassiti della società e sapete alla luce di quello che era la sua famiglia che apparentemente era perfetta bellissima meravigliosa mi viene da dire ci sarà qualcosa di autobiografico in quel romanzo ecco Parassiti per esempio è abbastanza diverso rispetto a questo perché non ha per esempio le tematiche dark ma ha tutta questa fine indagine psicologica di tutti i personaggi e delle ambiguità dei vari personaggi dei rapporti tra i vari personaggi è un romanzo che vi consiglio però forse più avanti quando Daphne iniziate a conoscerla un po' di più io partirei di più con i racconti e ve lo dice una che non è amante dei racconti però quelli di Daphne di Muriel veramente mi piacciono li rilego sempre in volontieri e ci sono varie raccolte ecco se volete quella tematica un po' più horror non voltarti a altri racconti secondo me vale veramente la pena se no c'è Rendezvous c'è gli uccelli altri racconti insomma sono tra quattro penso le raccolte e se non mi ricordo male in Italia è il saggiatore che le pubblica considerato l'epoca in cui ha scritto vi avevo detto prima alcuni romanzi c'erano come dire delle tematiche anche di attrazione sessuale o comunque questa tematica del sesso che siamo comunque negli anni 30 attenzione che era avvantissimo anche alla luce di un recente ritrovamento sono state ripescate del negozio di rigattiere fate voi una roba allucinante insieme ad altri racconti come vi ho detto all'inizio del video lei per sbarcare il lunario siccome le servivano dei soldi per andarsene di casa aveva iniziato pubblicando dei racconti per questa rivista sfruttando il nome di famiglia questi racconti a quanto pare poi sono andati perduti perché in piccole riviste letterarie insomma sapete no come inizia un autore sta di fatto che sono stati ritrovati questi racconti sono stati raccolti in questa raccolta che però per adesso da noi ancora non è arrivata e addirittura uno di essi che si chiama The Doll La Bambola si parla dell'ossessione per un robot maschile con le sembianze in un uomo che serve per il piacere sessuale cioè Daphne du Maurier che negli anni 30 scriveva una cosa del genere cioè capite è avvantissimo questa autrice bene fatemi sapere se voi avete letto qualcosa di Daphne se siete stati in Cornovaglia che cosa avete amato di questa autrice se vedrete Rebecca che uscirà breve su Netflix se avete visto alcuni dei film tratti o alcuni delle miniserie ecco che hanno tratto da questi romanzi e racconti e cosa vi piace di più di lei se c'è qualche altro autore di cui volete scoprire un po' di curiosità o volete un come dire un studio non direi approfondito con i confronti di Daphne du Maurier o di tutti gli altri ma semplicemente come dire banalmente un racconto generico su quella che è la loro opera così per farvi un'idea se per esempio non l'avete mai conosciuta io spero che alcuni di voi grazie a questo video abbiano conosciuto Daphne du Maurier magari l'avevate sentita soltanto nominare magari non avete mai approfondito la conoscenza con lei io mi auguro che voi possiate entrare nel suo mondo perché è un'attrice veramente notevole al di là che ha scritto tantissimo per cui c'è tantissimo da recuperare di suo poi è sempre piacevole anzi adesso vi faccio vedere cos'è che io ho di lei come dicevo è sempre piacevole andare nei mercatini e ribeccare roba di Daphne allora la maggior parte io li ho in questa edizione che appunto queste qua del saggiatore come dicevo questo qua è i parassiti che vi consiglio ma secondo me più avanti mia cugina Rachele beh che secondo me è bellissima ecco o potete solo iniziare con mia cugina Rachele il capo espiatorio questo a parte io la fine non l'ho non l'ha mai particolarmente però magari alcuni di voi mi dicono no però appena alla fine c'ho azzecca questo che è Non Voltarti che appunto è una raccolta di racconti il primo è terrificante era Non Voltarti proprio il primo chi lo sa e questo che è Gli Uccelli e altri racconti poi questi qua invece sono stati beccati su vari mercatini una stavo dicendo ma Dio ma ce l'ho doppio questo no però per un attimo l'ho pensato che è Donna Bordo che appunto dicevo quello del suo Taverna alla Giamaica che è quello che si ispira all'isola del tesoro non sarò più giovane ho anche Spirito d'amore ma dov'è non lo so secondo me è rimasto solo tra sogno ma sono sicura di averci lo Spirito d'amore e poi ho anche questo che è appunto addirittura che secondo me anche questo è una raccolta di racconti perché dovete sapere una cosa io leggo Daphne Dumourie su un mercatino io li compro poi non mi ricordo quali ho a casa perché tra una cosa e quell'altra deve aver scritto circa una quarantina di libri Daphne Dumourie e di conseguenza io boh raccatto su e poi dico vabbè al limite se c'è lo doppio lo regalo c'è anche un'altra persona che gli sta facendo su che è Lia vabbè al massimo li do a lei facciamo lo scambio tipo le carte della Panini uguale fatemi sapere quale avete voi quale vi piacerebbe leggere se non l'avete mai letto ditemi tutto a proposito di Daphne e anche di altri libri qua sotto vi lascio tutti quanti i contatti sia di Instagram che di Twitter perché la pagina Facebook non esiste più è stata chiusa se andate su Instagram c'è una foto coi romanzi horror che potete commentare perché farò un video leggendo i vostri commenti per cui se vi va di andare a raccontarmi quale romanzo horror vi piacerebbe vivere e per quale motivo mi raccomando sotto quella foto non su questo video perché sennò io mi perdo perché dovete pensare che io sono una rincoglionita cronica ci vediamo che brutto dire rincoglita sotto un video di Daphne Dumourie ma sotto un video in un video di Daphne Dumourie veramente brutto scusami Daphne perdonami per questa terminologia poco consono il tuo video noi ci vediamo molto presto io vi auguro buone letture e vi mando un bacio